Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Accessory Fotocamera Digitale Minadax in Pugnatura Portabatteria. Pulsante per AF, sblocco, indice, riduzione, per presa verticale, comando ON-OFF per presa verticale, due ghiere di selezione, scatto per formato verticale. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.